Apro l'applicazione della Juventus e leggo che adesso comincia la lotteria dei difensori. Il rompe Pavlovich, che cazzo, vabbè, comunque, vabbè, per le mosse, per la difesa, vabbè, anche questo. Poi si parla di Cambiasso, può tornare prima, poi c'è un'altra, ni di chi c'è, che cazzo è favorito la difesa, un altro giocatore, boh, non lo so, cosa ne pensate voi, io vedo, cominciamo con la solita barzelletta lotteria dei difensori, vediamo un po', non lo so. Boh, si vedrà, comunque, l'importante adesso è fare gruppo e andare avanti con lo spirito giusto per ritornare a vedere veramente la vera Juventus. Cari ragazzi, cari Juventini, carissimi tifosi Juventini, noi ci raggiorniamo alla prossima. Ciao, 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 ciao.